Qual è la strategia regionale sul tema dell'innovazione? La strategia pone le sue basi su una idea di portare in Valle d'Aosta imprese che credono nel nostro territorio. In termini politici ci interessa far nascere delle imprese, creare con loro le occasioni di sviluppo e concretizzare poi relazioni tra grandi imprese e piccole imprese, perché tutto questo possa essere un progetto centrato sulla comunità, sul territorio e sulle potenzialità della regione. Quali sono le linee messe in campo dalla regione per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese? Prima di tutto la possibilità di favorire l'ingresso delle start-up nella nostra pepinier, permettendo ovviamente attraverso la legislazione finanziamenti per i progetti di ricerca, in questo momento ci sono più progetti di ricerca aperti e poi soprattutto finanziamenti per gli investimenti, per gli investimenti innovativi e per la crescita delle imprese. Un buon progetto nasce dalle start-up e viene finanziato dopo qualche anno attraverso la legge che fa crescere gli investimenti della ricerca, gli investimenti dello sviluppo e gli investimenti sulla formazione del personale.